Sto per partire per le ferie, ma prima... Unboxing Magaio! Ok, questa volta è molto piccolino, scusate se vi metto due unboxing di fila, ma è un periodo davvero folle, 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 folle. Se mi seguite su Insta, cosa che vi consiglio caldamente di fare, perché do sempre un sacco di update e trovate nell'info box tutti i miei social in cui appunto sono particolarmente attiva, inizierete a cogliere dei piccoli dettagli sul perché. Vi giuro, è stato un periodo davvero complicato, per due motivi diversi, completamente diametralmente opposti, ma adesso si sta per avviare una delle cose più fighe di sempre, a settembre ce ne sarà un'altra, e a fine agosto un'altra ancora. Non vedo l'ora di poterle condividere con voi, di conseguenza quest'ultima settimana non ho fisicamente avuto il tempo di fare video, però prima di partire volevo assolutamente mostrarvi il piccolo unboxing di oggi perché sì, è molto modesto, ma dovevo assolutamente rimanere appdatata con le nuove uscite. Quindi direi di iniziare subito, vi ricordo anche che su Magaio il codice sconto è BEA e vi darò dritto al 5% di sconto. Iniziamo! Iniziamo con True Beauty, questo è il volume 4, questa è una di quelle letture che ultimamente sto divorando, ogni volta che mi arriva me la tengo lì perché voglio subito subito leggerla. Ve ne ho già parlato, comunque è un webtoon estremamente divertente, è un fumetto coreano, un manua coreano, appunto ha fatto una camionata di visualizzazione, si parla di milioni ed è stato pubblicato. È un esperimento molto divertente, per quanto sia un genere che tendenzialmente non leggo molto, perché è un romantico, però è molto, molto divertente, pieno di riferimenti alla cultura pop. Parla comunque, inizia a parlare anche del mondo, delle idol, dello spettacolo, che chi mi segue sa è uno degli argomenti che mi interessa di più in generale, soprattutto quanto è sentito in Corea. Insomma, se avete voglia di farvi strappare molte risate, leggere qualcosa, di che sia sì leggero, ma che comunque vi lasci un buon mood da dopo, True Beauty fa decisamente per voi. Il prezzo è di 14,90€ ed è pubblicato da Planet Manga. Proseguiamo, proseguiamo in un modo un pochino diverso. Sto parlando di Evil, il volume 2. Vi dico la verità, il primo lo devo ancora leggere, ma questo autore me lo avevate consigliato tantissimo, in particolare su Instagram. Ho preso anche il primo volume, che era in un bundle di Soil, ve l'ho mostrato, mi pare, nello scorso unboxing o in quello precedente. So essere un autore molto, molto efficace. Devo ancora farmi la mia opinione, non ho voluto sapere nulla sulla trama, ma assolutamente niente. La cosa che vi posso dire è che mi ricorda molto alcuni comics americani, qui c'è anche la cartolina. Quel mood è un pochino da... Avete presente Umbrella Academy di Gerard Way? Ecco, quel mood è lì, il tratto mi sembra quello. Non so dirvi altro per il semplice fatto che appunto sarà uno di quei volumi che mi porterò in vacanza. A proposito di questo, visto che non so in che condizioni potrò girare, però mi piacerebbe farvi un paio di video. Vi potrebbero piacere come idea un vlog, così vi mostro un pochino cosa faccio, e soprattutto dove sono, anche perché staremo in un solo B&B, piuttosto modesto, ma con il cane non era semplicissimo, andremo in Croazia. Ma magari vi racconto anche così, con il telefono proprio preso a male dalla spiaggia, quali sono le letture che sto facendo e cosa ne sto pensando. Spero di riuscire a recuperare un po' di quello che ho in arretrato, anche se alcuni volumi non so se portarmeli. Ad esempio, volevo finire finalmente, adesso che ce l'ho tutto completo, finalmente abbiamo, come dire, l'autore completo, in realtà no, ho tutto omunculus, però ho paura di rovinarlo. Quindi, però qualcosino me lo porto e fatemi sapere, insomma, se vi potrebbe piacere questa modalità, giusto per non lasciarvi scarni, che sono sicura che non riuscireste a vivere un buon agosto senza di me. Sto scherzando, ironia, ironia, non pensate altro. Il mio matrimonio felice. Allora, anche questo me l'hanno consigliato caldamente e ho detto, vabbè, lo leggo. Onesta, non mi ha fatto impazzire per niente, perché la protagonista è una cavolo di Mary Sue al 100%. Cioè, immaginatevi, cenerentola, ok, scusatemi, immaginatevi cenerentola, però, nell'universo manga, quindi questa ragazza viene da una famiglia in cui quasi tutti hanno dei poteri spirituali, lei ovviamente non li ha, ma forse li risveglierà un giorno, però la trattano tutti male, peggio di una serva, cenerentola, cioè proprio palese, la sua sorellastra è bellissima, il suo amico d'infanzia, quindi alla fine si fidanza con la sorellastra, lei va in sposa, o fidanzata, no, fidanzata non va in sposa direttamente, ha questo figone, che però tutti dicono che è molto cattivo, si scopre dalla prima vignetta, che letteralmente non è cattivo, e noi dovremmo simpatizzare per lei, perché è una poveretta, cioè certo, mi fa pena, ma svegliati fuori ragazza, cioè ho capito che hai pochi modi di reagire, però, è proprio uno di quei personaggi che vi giuro, raga, lo so che in Giappone sono super diffusi, ma per quanto mi dispiaccia per lei, e avrei cercato di aiutarla, dall'altra parte mi viene voglia di darle una martellata nei denti, per farla svegliare un po' fuori, quindi non so se lo proseguirò, però c'è l'anime su Netflix, e mi hanno detto che in realtà l'anime forse è meglio del manga, quindi potrei dare un'opportunità all'anime, fatemi sapere la vostra, questo è proprio un romance puro, e come sapete è difficile che ne trovi che mi piacciono, questo non fa assolutamente fungere, anche questo non è imbustato, perché l'ho letto ieri sera, quanto voglio bene ai diari della speziale, raga, pazzesco, se avete visto la mia top manga sapete che l'ho menzionato, siamo arrivati al volume 11, è una storia bellissima, ben costruita, ben realizzata, ben disegnata, bei personaggi, bello, 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 è un manga storico, è un seinen, all'interno ha sia la componente detective, sia la componente sentimentale, sia la componente comedy, una componente anche di critica sociale, piuttosto pesante in realtà in questo volume, che mi è piaciuto tantissimo, e poi se vogliamo parlare dei costumi, qui si fa un lavoro, che io ogni volta mi commuovo, per quanto io non conosca particolarmente le usanze della Cina, in questo periodo storico, devo dire che c'è veramente una cura dei dettagli, delle, vi spiegano anche tutto il mondo, insomma ve ne ho già parlato tantissimo, so che molti si fanno bloccare, però per me è un win-win, proseguiamo con Shadow House, il volume 12, sono indietro penso solo di un volume, una storia gotica, carina, tanto mistero, sono diventata un pochino più fredda, ero partita pensando che fosse una storia un pochino più, cioè sicuramente ci sono anche delle riflessioni, delle problematicità, dei discorsi anche un pochino più adulti, però sono un po' frenata ultimamente, lo proseguirò e lo concluderò, perché comunque il background, questo appunto background gotico, questo non vi spiego esattamente di cosa parla, perché ve lo spoilererei, però questo discorso di ombre, i padroni, che poi in realtà non lo sono, questa entità, insomma davvero interessante, però perde un pochino di mordente, come se stessero allongando troppo il brodo, senza riuscire a decidere che direzione dare, una direzione più spensierata, o una direzione più drammatica, una direzione più horror, oppure una direzione più di azione, li vedo un po', la vedo anzi, l'autrice o l'autore, non lo so, si chiama solo somato, un po' confusa, tra l'altro il manga dovrebbe essere un seinen, non ne sono sicura al 100%, però mi pare che lo categorizzino, almeno J-pop come fumetto per adulti, quindi tendenzialmente seinen, tuttavia non vedo, ovviamente non fatemi entrare in certe tematiche, però non capisco perché se realizzarlo in questo modo, possa aver avuto un senso almeno in Italia, perché sinceramente di solito, quando li categorizzano come fumetti per adulti, ci sono anche delle problematicità, indipendentemente da come sono serializzati in Giappone, non è questo il caso, vabbè, Oshinoko, un altro mio grande amore, non andrò avanti, questo voglio tanto tanto bene, Oshinoko, non vedo l'ora che qualcuno acquisti i diritti per l'anime, perché vorrei vederlo legalmente, e non è possibile, e non l'ho ancora visto, quindi in Italia ovviamente, e niente, io adoro questa copertina, bellissima, bella, ok, questo è molto tamarro, questo è molto tamarro, questo praticamente è, da quanto ho capito, la controparte femminile di Record of Ragnarok, The War of Greedy Witches, cioè praticamente hanno copiato, palese le copertine di Record of Ragnarok, non so raga, non lo so niente, so solo che è tamarrissimo, io lo adoro, adoro quando ci sono queste protagoniste femminili, una sorta di gender swap, probabilmente sarà una schifezza, può essere, però io mi gaso, io già mi gaso un sacco con gli omoni, iper palestrati di Record of Ragnarok, se mi danno la stessa cosa, ma con le zizze, io volo, io volo altissimo, poi ci sono i poteri magici, quindi le ma gioco in versione discount, forse, magari è un manga stupendo, non lo so, parto molto easy, però potrebbe diventare un mio nuovo Guilty Pleasure, se ci sono vampiri o streghe, molto probabilmente sarà un mio Guilty Pleasure, mi piacerà anche se sarà una ciofeca, proseguiamo, abbiamo quasi finito, quindi avete lasciato un like, con commento, vi siete iscritti al canale, mi avete seguito negli altri social, se l'avete fatto, vi voglio molto bene, se non l'avete fatto, fate un po' come vi pare, però sarebbe meglio se lo faceste grazie, allora, proseguiamo la mia interminabile raccolta, pezzetti di tracce di sangue, mano a mano che lo stampano, che lo ristampano, io mi accaparro un numero, per ora raga abbiamo il 12, il 13 e il 14, direi che siamo veramente messi benissimo, ottimo oro, allora questo appunto è il volume 14, lo leggerò prima o poi forse, concludiamo, questo unboxing con la nave di Teseo 5, ve ne ho parlato tantissimo, mi piace sempre di più, mi piace davvero sempre di più, è sempre più torbido, è sempre più inquietante, è sempre più pugno nello stomaco da leggere, nonostante le faccine moi, quindi sono sempre molto contenta di farmi del male, detto questo ragazzi, probabilmente se voi sarete d'accordo nel fare il vlog, o comunque qualche video imprevisato in vacanza, ci vedremo direttamente dalla Croazia, non vi preoccupate perché, non potete già fare le battute sul fantasma formagino, perché tanto di questo colore rimango, ho messo questa blusa per farvi rendere conto, che in realtà non sono dello stesso colore, quindi in realtà mi vedo già molto abbronzata, ho finito le cavolate per oggi, ci vediamo al prossimo unboxing, o meglio al prossimo video, scusa Iami non volevo spaventarti, e ciao!